Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani per lavori, chiude l'uscita Napoli-Centro verso Napoli. Sulla strada statale 145 Sorrentina, dalle 21.30 di oggi alle 6.30 di domani, chiude il tratto compreso tra le uscite Castellammare-Ospedale e Castellammare-Villa-Cimmino in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Napoli, in fascia oraria 22.6, chiude lo svincolo Capodimonte in entrata in ambo i sensi e in uscita in direzione Capodichino. Sulla tangenziale di Salerno, fino al 30 marzo, per lavori è ridotta la carreggiata tra fratte Via Irno in direzione Ponte Cagnano. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Sulla tangenziale di Salerno